Ragazzi, due metri e mezzo di arbero, per favore no. L'attesa è una settimana di ritardo, però ci vorrà parecchio perché arriva fino al soffitto, due metri e mezzo, casa argento. Guarda quanto adobi, ma non è cinesi, è plastica, è vetro, ok? Guardate, favolosi, argento, le cose. Mi ci vorrà un pochettino, due o tre giorni, ma alla fine poi farò vedere per voi il risultato dell'arbero e dell'arangento. Guarda che bello, ci vogliono le scalle. Buon Natale a tutti!